Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi, visto le tante richieste, vediamo come si cambia una corda alla chitarra. Allora ragazzi, questa è la corda. Non è una corda nuova, l'ho tolta dalla chitarra perché non ce l'avevo in casa, e visto che non posso uscire, comunque le potete acquistare in generale nei negozi di musica oppure anche su internet, ci sono corde e chitarra e potete ordinare anche il set completo. Allora, vediamo come si inserisce. Questo è il micantino, quindi la prima corda partendo dal basso. Se vedete, al ponte qui c'è un buchino dove voi potete far passare un'estremità della corda. Fate rimanere un po' di margine perché faremo un nodo in questo modo qua. Fate passare la corda dalla parte più vicina a voi e le fate fare un giro così. Poi continuate ancora a inserire in questo modo, fate ancora due giri, uno e due, spero si veda bene, e poi tirate in modo che lo spuntone vada verso fuori. in questo modo qua. Poi andiamo verso il manico e inseriamo in maniera perpendicolare la corda nella meccanica dove c'è la chiavetta. Ok, la prendiamo e le facciamo fare un altro giro e la inseriamo ancora dentro. Ok, fatto questo avremo fatto tipo un nodo che terrà fermo la corda e cominciamo ad avvitare, così, verso l'esterno la nostra corda. Assicuratevi che la corda passi attraverso la scala natura anche qui del capotasto e accordiamo finché sentiamo che la corda sia ben tesa prima di accordarla nuovamente. Ora la corda dovrà assestarsi, quindi molto facilmente si scorderà. Se piano piano la massaggiamo in questo modo qua, prendendola dal basso, non tirando troppo forte, ma facendo tipo un massaggino, si assesterà prima. E niente, e la nostra corda è messa a posto. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!